E' la tecnologia che promette di rivoluzionare il mondo con il cosiddetto internet delle cose, ma tante sono le incertezze sugli effetti che porterà con sé questa rivoluzione. Nessuna certezza dal punto di vista degli effetti sulla salute della popolazione, nessuna certezza sulla gestione dei dati di cui gli operatori, probabilmente cinesi, verranno in possesso e che riguarderanno ogni italiano. Al momento l'unico dato acquisito è che questa tecnologia costerà la vita numerose imprese del settore radiotelevisivo. In particolare le tv locali non troveranno spazio sufficiente per continuare tutte a trasmettere. In Puglia poi la carenza di frequenze è ancora maggiore e si stima che saranno almeno una ventina le tv costrette a chiudere con conseguente perdita di posti di lavoro diretti e dell'indotto. L'altra certezza è che quello italiano non sia uno stato serio. Molto poco seria infatti si è rivelata la concessione data alle tv locali nel 2012, una concessione ventennale su cui il Ministero per lo sviluppo economico ha fatto dietro fronte nel 2016 dopo soli 4 anni e investimenti per milioni di euro sopportati dalle tv locali. Dal 2016 le concessioni sono state edargite per periodi più brevi fino al vero e proprio blitz della manovra finanziaria 2019 quando nottetempo è stata eliminata la legge che riservava alle tv locali un terzo delle frequenze. Così senza tutelare le piccole e medie imprese italiane, pugliesi in particolari, si è aperta la strada ai colossi dell'informatica, una via della seta digitale che di sicuro ha solo il dramma che porterà nelle tv locali. Di questi effetti si è parlato nel corso di un incontro tenuto presso il Museo Civico di Bari dove ha relazionato il dottor Marco Ricchiuti della Direzione Infrastrutture e Servizi Media dell'autorità Garante delle Comunicazioni, non autorizzato a rilasciare interviste.